Sindaco, c'è una direttiva per contrastare il randaggismo a Licata. Un problema annoso che abbiamo affrontato sin dall'atto del nostro insediamento. Sono censiti più di 700 cani randaggi nel nostro territorio e l'attuale canile che serve anche al comune di Palma di Montechiaro può ospitare poco più di 50 unità. Naturalmente il problema del randaggismo va combattuto su più fronti agendo contemporaneamente su più fronti. Sono quattro le direttrici sulle quali l'amministrazione comunale si muove. Uno, la sterilizzazione dei cani. Abbiamo sterilizzato nel secondo semestre del 2015 più di 100 cani randaggi. Quindi abbiamo quasi raddoppiato le sterilizzazioni nell'arco di un semestre. L'altro, la microcippatura e il controllo dei cani sul territorio. L'altra direttrice è quella della sensibilizzazione alle adozioni e una campagna contro l'abbandono degli animali oltre che naturalmente il controllo del territorio a parte della Polizia Municipale. E infine, ma non in ordine di importanza naturalmente, è quella in cui ho dato disposizione di disdire l'attuale contratto che vede spendere l'ente circa 20.000 euro all'anno per l'affitto dell'attuale struttura e quindi pensare ad individuare un'area dove far sorgere un nuovo canile municipale anche in uno dei terreni confiscati dalla mafia, ad esempio.